domenica valle cannobina al voto per la fusione sono chiamati alle urne gli abitanti dei comuni di falmenta cavaglio spoccia e cursolo orasso fin dall'inizio ha respinto la proposta gurro si vota dalle 7 alle 23 in totale gli aventi diritto al voto sono circa 700 la metà dei quali però vive all'estero e non è ammesso il voto per corrispondenza se è ragionevole pensare che chi abita vicino magari in svizzera possa tornare in cannobina per partecipare al voto difficile invece il rientro in patria per i tanti che per esempio si sono trasferiti in america latina i votanti saranno chiamati a esprimersi con un sì o con un no sulla fusione tra i tre comuni chiariamo però che non è necessario il raggiungimento di alcun quorum per la validità della consultazione perché si tratta di un referendum consultivo i cittadini dovranno recarsi al seggio di riferimento muniti di documento di identità e tessere elettorale se l'esito sarà positivo sarà dato corso al disegno di legge regionale per la fusione e nel 2019 potrebbe nascere il comune unico nel vco sarebbe la seconda esperienza di questo tipo la prima ha visto in valle antrona la fusione di viganella e seppiana e la nascita nel 2016 di borgo mezzavalle si prospetta anche il matrimonio tra verbagna e cossogno con l'incorporazione di quest'ultimo comune in quello del capoluogo mentre resta aperto il dibattito tra quarna sopra quarna sotto e l'oreglia